Siamo arrivati alla 55esima vera scheda d'esame teorico per il conseguimento della patente di un iscritto al canale. Ringrazio Ryan per avermela inviata e per aver avuto anche molta pazienza in attesa che arrivasse il momento del video con la sua scheda. Vi faccio ovviamente i complimenti per essere stato promosso facendo due errori. Prima di iniziare l'esame mi raccomando di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Bastano davvero pochi secondi e per me sarà un grande aiuto per continuare a pubblicare video come quello che è stato per vedere. Per iscriversi basta cliccare sul link che trovate qui sotto in descrizione oppure sulla scritta che compare adesso qui in alto a destra. Dopo esservi iscritti concentrazione e iniziamo l'esame. Il segnale raffigurato impone di dare la precedenza ai veicoli provenienti dal senso opposto. La risposta è falsa. Questo segnale non impone ovviamente di dare la precedenza ai veicoli provenienti dal senso opposto ma è un segnale di pericolo che preavvisa la presenza di un ponte mobile. Il segnale raffigurato vige nei centri abitati dalle ore 8 alle ore 20. La risposta è falsa. E il divieto di sosta che nei centri abitati vale dalle 8 alle 20. Questo segnale vale 24 ore su 24 salvo ovviamente diversa segnalazione. Nella carreggiata a doppio senso di circolazione come in figura la striscia di mezzo divide la strada in due carreggiate ognuna a due corsie. La risposta è falsa. In una carreggiata a doppio senso di circolazione la striscia di mezzo la divide in due semi carreggiate separando i sensi di marcia. Il pannello integrativo raffigurato indica che la strada è percorribile solo dopo che si è passato lo sgombra neve. La risposta è falsa. Questo pannello non indica che la strada è percorribile solo dopo che si è passato lo sgombra neve ma abbinato al segnale di altri pericoli indica la possibilità di trovare sulla strada che è assolutamente percorribile i veicoli sgombra neve in azione da cui dovremmo eventualmente mantenere una distanza di sicurezza di almeno 20 metri. È opportuno che il conducente di un veicolo quando in un centro abitato si imbatte in un corteo imbocchi se possibile una strada laterale purché la manovra possa essere fatta in maniera corretta. La risposta è vera. Stare dietro ad un corteo significa procedere a passo d'uomo quindi molto molto lentamente. Se possibile sarà quindi opportuno invocare una strada laterale sempre che la svolta si possa ovviamente eseguire nel rispetto di tutte le regole della circolazione. La sosta è vietata nelle gallerie salvo diversa segnalazione. La risposta è vera. Tutto corretto. Nelle gallerie la sosta è vietata salvo ovviamente diversa segnalazione rappresentata generalmente dalla presenza di una piazzola di sosta. Nei veicoli dotati di airbag con comando di disabilitazione prima di sistemare sul sedile anteriore un seggiolino per bambini schienale rivolto verso il parabrezza bisogna disattivare l'airbag. La risposta è vera. Per poter sistemare sul sedile anteriore un seggiolino per bambini con lo schienale rivolto verso il parabrezza bisogna assolutamente disattivare l'airbag. visto che in caso di incidente questo andrebbe ad esplodere proprio contro il seggiolino nel caso in cui l'airbag non si possa disattivare allora il seggiolino andrà obbligatoriamente messo sui sedili posteriori. L'assunzione di alcol può far diminuire il livello di attenzione. La risposta è vera. L'assunzione di alcol tra i tanti effetti negativi ha anche quello di far diminuire il livello di attenzione facendo di conseguenza aumentare notevolmente i tempi di reazione. È consentito spostare la segnaletica stradale se non si tratta di segnali di pericolo? La risposta è falsa. La segnaletica stradale di qualunque tipo va assolutamente lasciata dov'è. Il segnale raffigurato indica che non è consentito proseguire diritto. La risposta è vera. Questo è un segnale d'obbligo che impone di svoltare a destra il prossimo incrocio vietando quindi sia di proseguire dritto che di svoltare a sinistra. Nei semafori in figura la luce gialla lampeggiante obbliga il conducente a spostarsi nella corsia indicata dalla freccia. La risposta è vera. Questa è una lanterna semaforica per corsie reversibili in cui la freccia gialla che è a luce lampeggiante obbliga tutti i conducenti a spostarsi nella corsia indicata dalla freccia stessa. È obbligatorio regolare la velocità sulle strade extraurbane secondarie ma non in quelle principali. La risposta è falsa. Su tutte le strade la velocità va regolata in base alle condizioni del traffico della strada, del veicolo, del conducente, della visibilità eccetera eccetera. In caso di traffico intenso il conducente deve regolare la propria velocità uniformandola il più possibile a quella della corrente di traffico che scorre lungo la corsia occupata. La risposta è vera. La velocità da tenere soprattutto in caso di traffico intenso va ovviamente regolata in base a quella di tutti gli altri veicoli presenti nella nostra corsia soprattutto ovviamente a quelli che ci precedono e cioè che ci stanno davanti. La nostra velocità dipende sempre e quindi anche da quella degli altri. Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva soltanto durante la circolazione notturna. La risposta è falsa. I dispositivi di illuminazione e cioè i fari e di segnalazione visiva e quindi i catadiotri non devono essere mascherati e cioè coperti né di giorno né di notte e devono quindi essere ben visibili in qualunque situazione. Con la patente di categoria AM si possono condurre i quadricicli leggeri. La risposta è vera. La patente AM consente di condurre i ciclomotori e i ciclomotori possono avere due, tre o quattro ruote. I ciclomotori con quattro ruote si chiamano appunto quadricicli leggeri. Il risarcimento diretto nei sinistri stradali si applica se vi sono danni al veicolo e lesioni di lieve entità al conducente. La risposta è vera. Tutto corretto. Il risarcimento diretto è applicabile solamente nel caso di incidenti in cui vi siano stati danni al veicolo o eventualmente lesioni di lieve entità alle persone. Non è invece applicabile nel caso in cui nel sinistro ci siano stati feriti gravi. Il segnale raffigurato impone nelle strettoie di dare precedenza ai veicoli provenienti dal senso opposto. La risposta è vera. Questo segnale viene utilizzato nei tratti di strada a senso unico alternato e cioè in quei tratti di strada che a causa della ridotta larghezza non consentono il passaggio contemporaneo di due veicoli provenienti da sensi opposti e impone proprio di dare la precedenza ai veicoli che arrivano dal senso opposto al nostro. Il segnale raffigurato viene utilizzato per indicare l'uso delle corsie. La risposta è vera. Questo è un segnale temporaneo che viene utilizzato in presenza di cantieri e indica proprio come utilizzare le corsie disponibili ai vari tipi di veicoli. Nel segnale in figura i veicoli che trasportano merci di massa complessiva pieno carico superiore a 3,5 tonnellate possono impegnare solamente la corsia di destra mentre tutti gli altri veicoli possono utilizzare entrambe le corsie. Sulla distanza di sicurezza influisce la dimensione del veicolo che precede? La risposta è falsa. Sono molti i fattori che influenzano la distanza di sicurezza che dipende soprattutto dalla velocità ma anche dalle condizioni di aderenza da quelle del veicolo con per il suo carico dalle condizioni del conducente della visibilità del meteo del traffico e molte altre. Avrei qualcosa da ridire in realtà che sulla distanza di sicurezza non influiscono le dimensioni del veicolo che ci precede ma comunque ricordiamoci di rispondere falso a questa affermazione. Il conducente che intende sorpassare ha come unico obbligo quello di azionare l'indicatore di direzione frecce. La risposta è falsa. Non può essere ovviamente l'unico obbligo quello di azionare l'indicatore di direzione quando si intende sorpassare. Dovremo prima di tutto verificare che la manovra si possa eseguire controllando la segnaletica verticale orizzontale verificando di avere sufficiente visibilità. Dovremo inoltre controllare cosa fa il veicolo dietro di noi e anche quello davanti a noi accertandoci che entrambi non abbiano segnalato a loro volta di voler effettuare la manovra di sorpasso. Dovremo anche preoccuparci ovviamente di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza nell'eseguire la manovra e molto altro. Sono tantissimi quindi gli obblighi che si hanno quando si intende eseguire la manovra di sorpasso non solo quello di azionare l'indicatore di direzione. L'uso delle luci anabaglianti è obbligatorio quando si sorpasso un'auto della polizia. La risposta è falsa. L'uso delle luci anabaglianti dipende principalmente dal tipo di strada che stiamo percorrendo ed eventualmente dalle condizioni di visibilità. Con il sorpasso di un'auto della polizia non c'entrano proprio niente. Se un ferito della strada ha riportato delle ustioni al busto conviene coprirle con materiale pulito possibilmente sterile. La risposta è vera. Nel caso di ustioni al busto non sono purtroppo molte le cose che si possono fare prima dell'arrivo di soccorsi medici se non coprire le zone ustuniate con materiale pulito possibilmente sterile rilassandoci eventualmente sopra dell'acqua fresca per alleviare un po' il dolore. Il cambio delle pastiglie dei freni è un'operazione di manutenzione ordinaria che può essere svolta da qualunque conducente. La risposta è falsa. Il cambio delle pastiglie dei freni è un'operazione molto delicata che va ad influire sulla sicurezza della circolazione del veicolo e che va fatta quindi eseguire nelle apposite officine. Il segnale raffigurato preannuncia di moderare particolarmente la velocità e all'occorrenza fermarsi. La risposta è vera. Questo è un segnale che impone di dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra e da sinistra. In avvicinamento ad un incrocio regolato da questo segnale serve moderare particolarmente la velocità per essere pronti ad arrestarsi qualora dovessero sopraggiungere veicoli da destra o da sinistra a cui bisognerà quindi dare la precedenza. Il segnale raffigurato può indicare la fermata di un autobus per trasporto scolari. La risposta è vera. Questo segnale indica proprio la fermata di un autobus per il trasporto di scolari ma può anche essere applicato sulla parte posteriore di un autobus adibito proprio al trasporto degli scolari stessi. Lo spazio di frenatura diminuisce se la strada è in discesa. La risposta è falsa. In discesa lo spazio di frenatura aumenta e in salita che diminuisce. Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo C non deve dare la precedenza ad alcun veicolo. La risposta è falsa. Questo è un incrocio tra strade di uguale importanza e cui vige la regola generale della precedenza a destra. Il veicolo C ha la destra occupata dal veicolo A e quindi dovrà dargli assolutamente la precedenza. Questo incrocio va risolto in questo modo. Prima passa il veicolo R che ha la destra libera dopo di lui passa il veicolo A e per ultimo attraversa l'incrocio il veicolo C. La manovra di svolta a sinistra è particolarmente pericolosa per un ciclomotore che deve interferire con la traiettoria di una o più colonne di veicoli più veloci sopraggiungenti dalla stessa direzione. La risposta è vera. Ci vuole un po' di fantasia per immaginarsi per immaginarsi questa situazione che nella domanda non viene descritta molto chiaramente. Il ciclomotore è un veicolo che circola a velocità piuttosto moderata. Per questo motivo dovrà fare molta attenzione nello svoltare a sinistra soprattutto i veicoli che sopraggiungono più velocemente di lui dalla sua stessa direzione e quindi anche dalle sue spalle. Quando si deve far salire o scendere un passeggero dal veicolo bisogna farlo attendere fino a che il veicolo sia completamente fermo. La risposta è vera. Mi sembra abbastanza ovvio che non si possa far scendere un passeggero dal veicolo mentre stiamo ancora in movimento a meno che non si tratti di Tom Cruise in uno degli episodi di Mission Impossible. Dovremmo prima ovviamente fermarsi del tutto e dopo potremo far scendere i passeggeri. Nelle curve percorse a forte velocità lo strisciamento dei pneumatici aumenta la rumorosità del veicolo. La risposta è vera. Se percorriamo una curva a forte velocità i pneumatici strisciano sull'asfalto provocando quella specie di stridio che assomiglia quasi ad un forte fischio che va ovviamente ad aumentare la rumorosità del veicolo. La scheda è finita e spero che anche voi come Ryan siete riusciti ad essere promossi. Il consiglio che vi do alla fine dei video è sempre lo stesso. Se avete fatto diversi errori provate a rifare la scheda tra qualche ora o anche domani o tra qualche giorno per essere sicuri di aver ben memorizzato tutte le risposte corrette e non rischiare così di sbagliarle il giorno più importante cioè quello dell'esame. Finisce qui anche questo video. Noi ci vediamo presto con il prossimo sempre qui sul canale Guidare Oggi con Andrea. Grazie per la visione